Con l'ultima apertura, questa è la terza in meno di 20 giorni, posso affermare che daremo una totale accoglienza a tutti i ragazzi, risultati idoni dopo le varie istruttorie effettuate dall'Adisu richiedenti, quindi garantiamo l'alloggio a tutti i ragazzi che ne hanno fatto richiesta. Ulteriori step, assessore, per gli studenti? Ulteriori step, avremo poi quest'anno, che diamo oggi, l'inaugurazione dei vari studentati e poi avremo il prossimo anno ancora agraria e via innamorati e valuteremo altre soluzioni abitative che ovviamente potremo attivare già dal prossimo anno accademico.